E' corso ai tamponi nelle farmacie aquilane. Da venerdì con l'obbligo del Green Pass per accedere a luoghi di lavoro, le farmacie sono piene di richieste per chi non ha ancora il vaccino e allora ci si organizza. L'FM, una municipalizzata che gestisce le farmacie comunali, si è organizzata con più personale, un medico dentoiatra, un infermiere, una biologa, allargando anche le fasce orarie dedicate, prevedendo la possibilità di poter prenotare i tamponi anche nella giornata di sabato, mattina e pomeriggio e nelle prime ore della domenica mattina. Si è registrato una progressione nella richiesta di tamponi rapidi antigenici e si è passati da una media di 120 a settimana a circa 150, numero destinato a salire con l'obbligo da venerdì. Molte farmacie si sono organizzate anche con pacchetti mensili. Le farmacie sono pronte per far fronte all'esigenza che si manifesteranno sin da domani per quanto riguarda il Green Pass e per quanto riguarda i tamponi rapidi. E' certo che sarà uno sforzo particolare perché molte farmacie, io parlo di farmacie comunali che sono sistemi a rete, si stanno organizzando con degli hub su alcune farmacie per concentrare la forza lavoro, i professionisti della salute. Ma si stanno anche organizzando per recuperare risorse umane da mettere a disposizione per fare i tamponi. E' certo che la media nazionale per le farmacie è di circa 30 tamponi al giorno. 30 tamponi al giorno perché? Perché la parte amministrativa è pesante, è complessa, bisogna comunicare a una piattaforma, bisogna poi dare i dati, bisogna poi aspettare per il Green Pass. C'è tutta una serie di procedure da fare che dovrebbero essere comunque agevolate o eliminate. L'auspicio però è che con il contatto diretto con il farmacista, spiega Venanzio Gizzi, ci sia anche una sorta di convincimento per i più scettici ad effettuare la vaccinazione. Il farmacista è un farmacista vaccinatore, ma la farmacia è stata individuata, intercettata per essere un presidio sanitario territoriale. Noi io mi auguro, noi ci auguriamo che la farmacia possa anche organizzarsi in maniera differente rispetto, riconosciuto il ruolo territoriale, di vicinato, di prossimità, riconosciuto il ruolo del farmacista, capace di convincere o capace di assistere il paziente, il cittadino paziente, bisogna che la farmacia venga strutturata non solo per esitare il farmaco, ma anche per avere delle funzioni sanitarie sul territorio forti.